Stanno facendo molto discutere, cari amici, alcune dichiarazioni dell'attore Matthew Perry, celebre per la serie Free Hands, nei confronti del collega Keanu Reeves. Lui lo conosciamo, come se lo conosciamo. Ma Perry si è già scusato soltanto che le sue frasi sono rapidamente diventate virali, anche perché sapete con quale facilità sul web gira in maniera virale qualcosa. Stando a quanto riportano le fonti di settore americane, nel suo nuovo libro di memorie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, l'attore Matthew Perry si è lasciato andare a delle rivelazioni. E tra queste rivelazioni c'è di mezzo anche l'attacco a Keanu Reeves. Parlando del compianto attore protagonista di Le Ragazze di Jimmy del 1988, ovvero River Phoenix, Perry si è chiesto infatti perché lui non c'è più, nel senso che ha perso la vita e la star di Matrix invece sia ancora vivo e vegeto. Perché pensatori originali come River Phoenix e Heath Ledger non ci sono più, mentre Keanu Reeves cammina ancora tra noi. Queste sono proprio state le sue parole esatte, parole che fanno discutere, che causano polemiche. Matthew Perry ha poi rincarato la dose nello stesso libro sotto accusa. E parlando della morte del comico Chris Fairley ha nuovamente citato uno degli attori più amati di Hollywood, che ormai è icona di gentilezza e affabilità. Dicendo, eh, la sua malattia è progredita molto più velocemente della mia. Ho tirato un pugno e aperto un buco nel camerino di Jennifer Aniston quando l'ho scoperto. E Keanu Reeves cammina ancora tra noi. Di recente Perry ha svelato di aver avuto problemi, problemi vari, alcol, the rock and rocker rule, queste cose qui, e ce l'ha avuti anche durante le riprese della popolare serie. Le sue parole hanno comprensibilmente causato una grossa polemica che ha fatto discutere, non solo poi dai fan di Keanu Reeves. La stessa fonte però riferisce che suona abbastanza strano che Perry abbia scelto casualmente il nome, visto che il protagonista di Matrix viene citato più di una volta. Senza dubbio per il libro non si tratta esattamente di pubblicità positiva, eh, questo assolutamente no. Per quanto mi riguarda per questa piccola news è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e come sempre alla prossima!